Ieri va della giornata, ma sariamo un'eridata, con bravura io talvis, la mia tua parità amici, tutti insieme in tecchia giù, ascoltariamo un'estoriute, conti su se non stilì, ogni dì si fa così, tutt'olio in mezzo, tranquillano, non sta pieni di papà, non sta la lontan, lontan, sta fer' piacchia la mamà, tutt'olio in mezzo, tranquillano, non sta pieni di papà, non sta la lontan, lontan, sta fer' piacchia la mamà, e non sta la lontan, lontan, sta fer' piacchia la mamà. Daria! 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 Venghiù! Sei stu pronte? Mandi, Chiara! E ho rinicolo! Ma c'è a o di portà? Ehm, non sai, ho un'epalette se tu vuoi. Palette! Chiara, non tu mi frearà, senti queste volte. Frutti, frutti. Si visai su di che volte che Chiara mi aveva dì di portà la palette, par gioia di furco un ghiè, ma le aveva con un floccon sgrandononso. Come ho nove che noi coli come un piruccio. Ben su, che mi prepari? Ma, Daria, ma c'è fase stu cussidute tabarossade? Ma, pastu cialat fur dal barcò. Chiara? Chiara, si orte, c'è molto che l'ha visto. Per fuorce! Sai tu perché l'ha visto così pesante? A nini insieme. Così tu potrai sdomandare in dolore che le dirette. Io lo so già, ma lo vi ho detto la settimana passata. Oh, ma rissante! E' vero, eh? C'è chi è il tale vuoi? Talvez' vi dite io. Non state a dimmi male a me? Mandi, Daria, mandi, Chiara. Mandi! Sì, signor Timp, dici ad aria perché tu sei tutta barossade, se di no, subito evapora i soldi dai miei vuoi. Sì, sì, anche io, Heidi, muovimi. O saves ben che non arrivi mai a questa affaire, no, mo? Boh, pensai che come ho, Heidi, svolà fino in Argentina. Là che mi stanno spietando i miei migliori amici. Autunno e invier! Proprio così, Frus, ho vinto un po' di questo mondo. Là che al scomincio l'invier, proprio quanto che chi al scomincerà l'istate? Par da boh! Come ho, hai capito il mistero. E io pensavo che fosse anche mo freddo. Invece tu vas dom in vacanza. Eh sì, Daria, ho sempre arrivato ai primi dì del mese di giulio, che ha diventato e finirà la primavera e al scomincerà l'istate, per fuorce che le ghiacchie. Hai capito? Beh, signor Tim, qui sa troppi storie che tu vorresti di svolare. Non sarebbe meglio che tutti mi cedis, eh? Eh sì, come che si dìs? Cui chialatìm, che non spietitìm. Mamma, Daria, mamma, Chiara, arrivi odissì! Mamma, buona vacanza, signor Tim. Saludinus l'autun e l'invier. Fas buon viaggio, signor Tim. Arrivi odissì, mamma. Sì. 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 Grazie a tutti. Facciamo un gioco. Vi ho detto se è buona di dovinare quali sono le immagini che rappresentano le due stagioni che si incontrano nel mese di giù, in 5 secondi. Siamo pronti? Allora, via! Le immagini che rappresentano le due stagioni che si incontrano nel mese di giù, in ieri la seconda e la terza, ovvero la primavera. E' vero che si incontrano le due stagioni che si incontrano le due stagioni che si incontrano le due stagioni che si incontrano nel mese di giù. Vamiglie e sorelle. Me mari e guida un camion. Grandon! Ross e lustri. E insieme avevano torpa al marimonte. Che volte che mi ha portato con ieri a fare un giro, insieme avevi di essere un astronave e ho sentito sgriso i testi come quanto vuoi ma se fuori sul nicio. Quante me mari e gli è lontan avore, avevano di me la bisse, la nonne, agne e un'evecchia di ape di spetose. Che se noi doi di mangiare quanto vuole e butte partire, ducce checchiate sulla tavola. La nonne bisse e pisule su un'evecchia di poltrona che dispense. Cale, è plui fresca, così odori di plui. Ed è, ma intanto si tappone con due scuvierti di lane, così che parviò di le mitocchie di berla. Nonute, tu la sei stu! E allora gli è tira fuori il sochiavut come un ecopasse del sochiazzutte. La nonne, invece, è così ne sempre. E t'ha che ha buonore. E parquanto che io mi dismuovo, e ha già preparato grumms di krafen e di biscotti. Intanto che sul fuoco avvolino il brutto, il tocchi o gli spatati spagnoli. Ne marie, dìs, che se la nonne è spese a sglomfami di robe di mangiare, diventerai come un gruess bignè con la chioccolata. Il color tu lo has già, e giunto intanto che mi stringi quarte fuarte. Tordos, dopo misdi, la nonne è affinì. E allora i tocchi e agne, di netta il tuo mignon in cosine. Agne, egli è sempre da ora, cori a torco il peciotto dal polvere in man, e mi berle, quanto che ho bussi il spiel per viodi le stampa delle mie bocchie. Mi hanno contato che quanto sono inassude, la nonne visse, la nonne e agne, mi hanno chialato come il più bello regale di Natale. Poi dopo, la nonne mi ha bussato la tributa e ha detto e non di vaniglie e di sorelli. Mi hanno chiamato di Jasmine, e la metiel, e ha un colore di latte e chioccolata, che resta anche in invierno. Ha, sono due libri, e un ha il diisa di che l'altro. Ho altri libri, e che l'altro libri ha il rischio. Ho credo, tu doarmi sempre, con la cuve artuta. S'ha vedo, perché il signor Tim, ha il va in spiaggia, con la portella di automobili, perché se ha le chial, al posto di raiù il finestrino. L'ultima giornata di scuole, doi pari scendpies, affevele in tra di loro. C'è molti salato, fii a scuole, che stanno al domande il primo, e il secondo al rispuin. Sì, le acchiappate un po' cut, so ghiambe, so ghiambe, so ghiambe, so ghiambe, so ghiambe. Sì, se so boi, si fai vela per furla. Inviai tu un vuestri video, in due là che non smandai son pensii, un e fiancio, un e barzalette, un e conte per furla, o un vuestri disegni, lì che si vio di un momento in particolare, di une puntade di mamà. Mandate al numero 33372-02-1-4 oppure è direzione di queste elettroniche mamma www.cayouttibustar.com Occhio! Il telefono è salvato in orizzontale e non in verticale. Il telefono è salvato in orizzontale e non in verticale. Il telefono è salvato in orizzontale e non in verticale. Il telefono è salato in orizzontale e non in verticale. Il telefono è salvato in orizzontale e non in verticale. andati gli essi fur con gli e a gioiare con la paletta. Nieri viste di dunque a parlare al mare, ma di fu al neve aveva un floccone grande noce. Queste volte mi soi di te, chiare la me chiara, non tu mi freis anche queste volte. Ma i chiare fuori le barconette, tu hai detto a passare sui ortini tutta barossare. Pensavi che fosse anche mo' fredda, mi soi viste di pesante, come se non fosse finita anche mo' l'indiere. Ci ridà di schiaffa chiara quando mi aveva dovuto combinare così. Ben, insomma, mi ha portato lì di sior T e ha fatto mi spiegare di lui perché gli ero vissuti in che maniera. E non sa di, cala di fare una vacanza fin in Argentina. Pense, vuoi scoprire che in che bande dal mondo, in te America e dal sud, quando c'è lì finito la primavera e l'altà che l'estate, là al finis l'autun e al scomencio l'inviere. Che smanno finis mai di maraveami. Perché stanno però, non hai già avuta vonde dal freddo. Non ti paria? Mamà, un frutto. Pronto! Mandi, Daria! Mandi, Chiara! C'è contenta che ti sia. Contami tutto. No, io devi l'ora di contarti queste robe. Eh? Tu sei invitata in maniera ufficiale a un pigliame party lì di me. Tu hai dipartato tutto che ti puoi scoprire per dormire e anche per passare il tempo insieme. Se tu sapessi, c'è tanti srobis che ho hai di contati. C'è sorpresa mondiale che tu mi hai sfatto. Non hai mai partecipato a un pigliame party, io? Vendi corse, ti spieti. Oh, grazie. Mamà, mamà. C'è sorpresa mondiale. Un pigliame party a casa di Chiara. Non c'è forti oveglia. Ho credo che fai una lista e mi potrei scopentare per visarmi tutto. Liste fatte. Ecco, ma prepari la robe. Sale un pigliame party al commentare un pigliame. Ma che è il cui curisins o che è il cui chiams? Ma mi vedo che ci doi, non si sa mai. Spassettino di dinti. Ma che è il giallo o che è il rosso tutti i due, va? Ah, sì. Stropo i pezzorelli. Libri. Questa magari non arrivi a chi appassiù. Un, due, tre, quattro, sì. Memori, far gioia con Chiara. Chiartis. Siarpe. Ma andi, Daria. Andi, Chiara. Ma ci fasi tu con che valizone? Tu hai distato un egnuno mica un mese. Beh, lo sai, ma ho so delle idee che tutto il po' è scopentato. Non si sa mai. Ma... Ma... C'è maravè, invie le mostre sulla gratulia, oh Daria, giure Ise, non sei tu ma io ne vorrei stracche. Eh, sono stracche anche io, sono le nuove a mezzo di sere, andiamo a dormire, Chiara a tiriti su, Annina dormi, Annina lavassi i dink, suppo dai, oh Dio, ben, oricumas, ma mettiti il pijameno tu dirmi la smiga così, su, un po' Chiara, dai, Annina. Ma, Daria, c'è fasi tu combinate così? Ah, boh, quissà, magari tu ronceis, ah, i manchiancio di vigi mi sei portato il mio felice preferito. Mh, mh, bui degnotto, bui degnotto. Sei tutta emozionate, non arrivi a chi ha passione. Ah, dici che con tali spiori saliudi, provarai. Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque, sette, otto, daria, nu, dis, daria, ma c'è stato un po' tu facendo. Ah, insomma, Daria, ti prego, Eduard, che è tardi? Ho contato gli spiori, sa disinca liudi a chi ha passione. Scusa, tu hai ragione, bui degnotto. Bui degnotto. Chiara! Hai fatto un sium? Sì, mi guarda. Tu tu mi avevi telefonato per invidami a un pigliame party lì di te. Tu tu eri straconone e io non arrivavi a indormi, dimmi. Lo sai lì già? Impossibile. Daria, lo sai già, perché non è stato un sium. e sta succedendo per davò. Daria, ti prego, Eduard, come. Nooo. Mi regnotto. Nooo. 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 è arrivato, signor Timp! Mi sembra di aver saputo che ora di sera Daria è stata invitata a casa di Chiara per un pighiame party fra me Dunque, ho pensato di fare una sorpresa e di preparare una buona torta per l'inizio Non so io anche io un amico Orpo Ma quell'isola queste ore Non spietavi nessuno Oh, Marissante C'è Spac Ho pensato che il fosco la talc No Tanto cattepuarte Dome che non sai cui calpoderessi essi tanta d'ore Oh, Valle signor Timp! Che fai su questo culino a buon ore? Valle signor Mi ha avvisato che qualcuno avrebbe organizzato un bel pighiame party o hai pensato che fosse una bella idea che di portare una torta per condividere due insieme per un'inizio So io o non so io anche io un vostro amico? Ma sicuro, signor Timp! Che tu sei un nostro amico Ma c'è bene l'idea che tu lo svude C'è bene il pensiero Sta con i amici E gli è la ricchezza più grande C'è via il cui amici contassi di tutto L'ufaggin il vieli Il giovin nel frut Si conti in pensis Con sincerità Oppur un segret Dal cuor ben platà Chiatà una mille Chiatà un tesà Ve un'amicizia E al val più idola Le biel cui amici Tiñisi par man Volessi tamben Vivo e fin domà C'è biel cui amici Fa grandis ridadis E quante vencer E far lunghi schiantati Al cinque giornate Spietà con il vesco Parlar Dormi insieme Corco in tricò Chiatà una mille Chiatà un tesà Ve un'amicizia Al val più idola Le biel cui amici Tiñisi par man Volessi tamben Vivo e fin domà C'è biel cui amici Giuglia in quantità Da scone Da rufe Fa simpilapà Sapisi ogni volta Chialanzi dai voi Insieme ai amici Lo simma i besoi Chiatà una mille Chiatà un tesà Ve un'amicizia Al val più idola Le biel cui amici Tiñisi par man Volessi tamben Ti vuoi fin domà Chiatà una mille Chiatà un tesà Ve un'amicizia Ve al val più idola Le biel cui amici Tiñisi par man Volessi tamben Ti vuoi fin domà Facciamo un giug Vi ho dimmi Se stavate attenz Di l'umpe pontale Quali di queste immagini Rappresentino Ioges che ha portato Chiatà me d'aria Dentri dei sovalini Hovi 5 secondi A disposizione Se sono pronti Allora è via Le immagini Le immagini Che rappresentavano Ioges che hai metto In te valis Parla a chiasi Di Chiara Ha ieri La prima E la terza Ve avviso Indubinato? Bravs! Qual è Ise la immagini Che rappresenta il regal Che ha portato A chiasi di Chiara La immagini Che rappresentava il regal Che ho portato A chiasi di Chiara E ieri La quarte Dove hai bisogno Indubinato? Bravs! Ieri va della giornata Fadarino E ridate Con bravure Io tal dìs La mia dù Pari Chiamis Tutti insieme In te chiasi Te Scoltarino E storiute Noti gius Che musti di Ogni dì Si fa scusi Tutti i miei Dopo il furlano Non sta perditi Maman Non sta la lontan Lontan Sta a fare Chiarla Maman E non sta la lontan Lontan Sta a fare Chiarla Maman Doi abissi chiatin E ogni dì Sa di che l'altri Sastu O soi un e vore content Che il prossimo anno Cambiarin scuole E che l'altri E par ce sestu tan content Per via che In te scuole Dal prossimo anno Li saulis Ha saran tarondis E in alore In alore la maestra Non può darà più I metinus In tu un chianto Doi amissi chiatin E un Al di sa di che l'altri Sastu Voi o soi lato al cine Con me mari Lo sai biel già Ma C'è un fasi sto a savelu Perce che tu me l'has detto Come ho La vera amicizia La vera amicizia E resista Al tim E le distanze E al ci di noi Un amico E gli è la roba Più preziosa Che tu puoi dissi E la miglior persona Che tu puoi dissi Più dolce Di tutti Gli richiesti De vita E gli è l'amicizia Mandi Vigli C'è biele serate Quei passate Ier E c'è biele mattinade Quei passate Voi Pense Ier o sei state Indidate A un pigliame party A chiasi di Chiara Ho vinto giochi Come matti Fin sere E ho ieri C'è tanti stracononi Scrodini Ho vinto anche Una biele sorprese A buon'ora Le passate Ier oltim A chiatanus E a portanus Una biele torta Per poter Fagolizion Tutti insiemi C'è emozione Ho pensi Di essi proprio Fortunate Averchè Ci doi granchi amini Chiara Ier oltim Sì 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 Oh no Ma non sto Uffinditi Non mi sono dismenteato Di te Anche tu Sei sei un grande amico Veloso Prossime volte Tu vieni sai che tu Mamà Un frutto Ho saputo che vuoi E sarà l'ultima puntata di questa seconda edizione di mamà C'è disperazione È vero Mi stavi divertendo così tanto Mi dispiace una volta Sì 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 Tutti All'è scominciata I dodis di gennair Dal 2018 Quanto hai proponuta Daria Di là di fura Giùata al giardin Con tue palette Ceri dadis Non aveva mica capito Che la palette Conventava Per gioia con la neve Non vi ho la ore Di gioia a balis di neve con Daria Ma Daria Sì Ho rivi Ho rivi come ho Ah è chiatà Ecco Ecco C'è fase Tu combinate così Tu mi hai detto di portare la palette E dunque Palette E seguo tutto E vuoi che non porti anche un materassino E al di covo per giocare al Savalò Ma sei stu mate Savalò Materassino Ma chi ha lì mi me Ha studiato fuori dal barcone E dal mese di marce Si vissà Iso Non avresti mai creduto E mi avete Di viodi di dongi e un sbilf Ha proprio te reso A dica Sono un e vuore berechino O snot Ovvio da res C'è che ur combinarai Mamma Chiara Chiara Shhh Ma il marcello Lo sei sicura di vessi in tutto e no? La vostri qualche dunca E vedele sotto all'arco Sì 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 L'uviot Sì Alla stilf Tim Guarda boh Is al culis Non puoi scrodi Ho seduto emozionate Non hai mai vioduto un sbilf in vitae me? Oh Orpo Velo Velo Che arriva Non l'uviot Ma sei contente Non l'uviot Non l'uviot Sicur disturbato Qui sa ma magari Vero fatta in basse confusione Ma 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 dove l'è? Dove l'è? Oh Non credo di visami di un mese di februari così pleno in mattina Che scusi Non sai troppo che mi sono divertita in che volta che a carneval mi eri travestuta di siore bionde Un po' dopo di ho e di fruttine e tu non tu arrivavi se in acquargi ti coglierei sempre io Eh Hai per caso vioduto tagliessi di queste chiasiute un'efantate cuicchiaveri ciòs color maro? Mi par di sì Puoi di aver avuto un vestito nero con i balini color di rose come gli ho per caso? Ah sì Proprio i compagni dal so Allora sì Li hai viotute alla parla e a schiavacciare il po' in? Guarda voi Oh Mil grazie siorute Ho ieri in d'accordo di la via insieme Non mi accogno su Come ho i corda ur e ho provi a fare un altro scherz Look La di più buona per me E' stata da che hai po' di visitare tante città del nostro friuli Dimmi averne anche per me Frus 然 è arrivata il sior timp Ho deciso di visitare il friuli La nostra regione maravigliosa E ha il mar Turchin, gli smonti e le belle città, allora come lo hai di organizzare? Quindi lui è stato geniale, la vostra idea è di contare una storia con le vostre smonti. Ah, bravi, no ma vedi, c'è uno! Chiamine e chiamine, lui era arrivato su per smonti e lui aveva chiamato un animale un nevore grazioso. Mandi, e tu? Qui sei tu? Mandi, io ho in un cerf. Ma c'è voi strane che tu hai. Dice il chiam, per farci io ho promesso. Abbao, i vini tanti ridi per via che gli pareva un nevore il viers de vacche, eppur erano tante differenze. Così aveva provato a bramì e veniva proprio te bene. Daria, pensa che tu sei fin tremai arrivata a farmi ballare. Dai, ti insegno io. No, no. Una danza è un nevore grazioso e semplice. No, no, ti premi vergogne. Ma dice... Voilà, è così bello, al schial del cuore tanto chianta e al fa bene ai saluti. Oh, so i bielli, oh, so il mes mai. Di voi, amici. Sì, vi saiso di che giornate là che io sei preparato una piaccia al tesoro. No, voi siete stati così bravi che avessi arrivato ad ora e chiamato la sorpresa che vi avevi platato sotto la tavola. E io, come c'è il luci indulare che si riunissero in le famiglie e a ora, a ora di io sono sempre quattro chiedere. Quattro chiederebbe, mani, famiglia, chiederebbe. Faci! E sarà dal sicuro la tavola. Brava, Daria! Anima! Mi vengiel già l'aghegole E aghegole, aghegole Se tu savessi scegole che mi vengumo a mi Ma manchiar sprutinx No stai da ingropassi Ma manchiar sprutinx No stai da ingropassi Avventure passate in ligrie Di furottetia su te Cum chiara la mia mie Ma manchiar sprutinx Chia baitit chia pie Ma manchiar sprutinx Chia baitit Chia baitit Chia baitit Chia baitit con d'aria e figliù contanzi gli stori sgiojando a Bardù ci piene amicizie nassù da mamon farsi un gire in cont stringi in sila mamon mamon ti ha sfruttit ti ha vaiti il chiappier mamon leppini l'estat propit pie con conti sjortit giù se ciancius c'è tantis ridatis e grandis emozios mamon chi ha sfruttit ti ha vaiti il chiappier mamon leppini l'estat propit pie facciamo un giù vi ho dì se o sè sbojns d'induvinà tra aquestes quattro immagini qualsiasi cassone che rappresentino i oggetti che non si può incoventare per conservare i nostri ricordi i nostri ricordi li si imagines che rappresentavano i due oggetti che non si può incoventare per conservare i nostri ricordi ha ieri la prima e la terza vi ho indovinato? bravo! 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 Anche i tifatini devono amare le bidele Il prossimo anno non sarà in cui c'è Ma c'è che sbagliare non stacchierà Ma No Di qua Che resti in qua Diventando voi Di parà Vidiò se storie Solle lì mi c'è lì E tanti slovi Su di cifatini Ma qualche solo è la campanella Di furti corsa Da punti in vestuare Ma Ma Il chiesce non stacchierà Sì, ma in tal sardin Anche se fanno i simplici Sì, sportin Se agruzzi Sì, lavorin Le dispeste Mioi piatti Ma 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 Im secorde In corsi I scrivim Edes tabeline Same mollim parim Nus plasla In dite in palestre Surtà è la buracula Ma maestre Ma 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 Anche noi Prime Di ribata Paterine Pari Parapalle E scrivi e conta, ognun di do si è dato a fa' Mamma! 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 La mestre di Isa Pierut. Pierut, il tema sul tocchian. Alle compagni di Kelditofradi, lo hai copiato per casa e Pierut. Sicur' che no, signore mestre. Il fatto è che ho vinto il stesso piano. Mamma! Sassu! Mi andate la pagliele! Oh, bravo Pierut! E c'è molto vastu a scuole! Capit? Non è! Oh figli! Se tu sapessi ciò molto che mi sembra! Sei abilita e contenta dal stesso momento! Cosa è possibile? Cosa è possibile? L'ultima puntata di mamma prima di polsi per le vacanze estive. Cosa è stata tutta il dopo di mesi di insieme con Chiara e con Sjortin a ricordare i tanti che i miei momenti passassi insieme, di ottobre fino ad un anno. C'è tante avventure che vengono vivute! E c'è tante ridate! Mi vengono vivute! Mi vengono vivute! Ho pensato troppo che mi sono divertita! Oh figli! Noi mamma! Ho sentito una volta la mancanza dei frutti! C'è molto? Sì, sì! Tu hai capito bene! Voglio vengli salutare tutti i frutti! Tutti te che non sono seguiti con tante fette! Quindi augurare una buona vacanza e un'istata legale! Venga! Fasiti il braccio là! Ti capis! Voi al dà che ha fatto proprio il piatto! Al sarà dal sicuro un'istata maravigliosa! Non scontare se c'è come eri fatti o tornare in casa nel mese di ottobre! Come ho saluti? Piggy! Piggy, venga! 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 Yon! Venga! Venga! Grazie per la visione!